Ciao sono Golkenji, oggi siamo nuovamente qui su PlanetSite 2 dopo l'aggiornamento di ieri, l'altro ieri non so che come vedete porta abbastanza modifiche nel pannello principale dove vediamo che la mappa è stata resa un po' più grossa e abbiamo come vedete quando mi giro c'è la bussola sopra che gira abbiamo tutto messo là, tutto incastonato là se 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 scappo 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 che qua ci ammazzano andiamo andiamo via, andiamo via ok, forse non ci vedono dai, no, vabbè e poi, vabbè, adesso aspettiamo non so come ho fatto a farmi il 52% di danno ma va bene dai ci tocca difendere anche questa sera come vedete poi è scritto tutto più piccolo io non so se nelle opzioni poi posso cambiarlo ma è scritto tutto più piccolo squadra alfa tutte quelle cose lì quindi per ora so che hanno cambiato quello adesso arriverà qualcuno sicuro adesso cerchiamo di difenderci ho già già infatti guarda la go eeeh posso aspettare un attimo eeeh col corazzato lui spiazzato proprio ok tranquilli poi non so cosa hanno cambiato qualche qualche arma ma le solite cose che fanno vediamo se è un po' più fluido il gioco se se hanno migliorato qualcosa lo vedremo assieme naturalmente ma qua intanto ci sparano e noi in pochi a difendere vediamo un po' se riusciamo a ci stanno già prendendo a porca vacca via 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 prendi a dobbiamo prendere a passiamo se da dietro va bene attenzione che ce la possiamo beccare davanti in ogni momento ah ah dove sei ah ah oh qualcuno è morto attenzione ok per ora sei ancora a posto attenzione ok 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 non c'è più uh benissimo abbiamo ripreso ah vediamo un po' abbiamo il 33% di nemici dentro la nostra base dovrei sapere dov'è perché prima ne abbiamo occupato uno vediamo prima di tutto questo episodio lo facciamo senza plotone bomb ok senza squadra e andiamo da soli contro il nemico scaliamo la montagna che non si può scalare bene di qua di qua su 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 di qua non si passa ye 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 direi che che è passato di qua ah ok c'è un po' di gente dall'entrata staranno facendo una buona resistenza lo spero e andiamo vediamo forse riusciamo a prenderne qualcuno vai no ha preso il ponte ce n'è uno là oh che cacchio è che spara qua ok attenti c'è qualcuno che sta cercando di sparare dal ah no sono i carri armati guarda di là vai preso no 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 ma sempre lui sempre il carri armato il wrestling wrestling e ce l'ha ripreso a ci han preso pure b dai ragazzi so 20 minuti e ce la prendono no 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 non la faremo prendere così facilmente no 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 stanno entrando stanno entrando entrano e porca vacca entrano e se mi vedono son fritto e mi han visto e son morto guarda questa non dico niente prossimo però guarda quanti siamo andiamo un po' se c'è una squadra qua perfetto c'è una piccola squadra e cerchiamo di difenderla su allora ho preso la granata concussiva se si chiama così perché mi avete chiesto se potevo provarla cioè potevo provarla mi avete consigliato di usarla per entrare negli edifici non so neanche se ci sarà il caso di usarla ma che cacchio è che mi spara e non dovete sparare a me mi tocca fare il camperone allora veniamo lancia oh l'ho preso oh bonus vendetta bene ecco ecco questa è la granata concussiva che non si vede più niente andiamo sì un'altra basta muoviti ok ci serve un piano perché qua ci fanno il culo a strisce ecco ecco non ci sono uno dei miei sì ah meglio togliersi di qua andiamo a passare da un'altra parte allora hanno solo più B vediamo se riusciamo almeno a tenerci le tre basi ce n'è uno là dentro ah ok stiamo morti perfetto B B B B and then B B B B ok no problem ecco stanno cambiando tutte e tre quindi abbiamo A no forse loro hanno A e C no ne abbiamo noi qua c'è Sanderer non riesco a vedere niente l'oscurità dai ma loro ci vedono sempre a livello 100 Dora Olis qualcosa dai su non voglio perdere anche questa so di qua c'è nessuno sì c'è qualcuno sono ancora vivo sono ancora vivo e prendo quel beh nel cd1 ti uccidono te non cd1 e poi ti uccidono te però abbiamo due punti su tre adesso prendiamo B tranquillamente e dovremmo essere a posto però però l'oscurità non ci aiuta allora ce n'è una cosa che vola salta in qua paila ha troppo 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 d'assalto leggero stili dice andiamo a riprendere cb ci da un po' di esperienza prendiamo anche a bene c'era un uomo invisibile che ne ha via infatti porca di quella vacca porca ma almeno è morto vai su che li abbiamo rispinti o almeno li stiamo respingendo vediamo se c'è qualcuno qua dietro che cavolo sta succedendo ok vai muori muori max eh se ok dai credici credici che ce la facciamo bellissimo è ancora nostra 4 punti VDS e altri 4 punti VDS che non ho visto ah ok siamo primi tranquillamente sì sì ok basta basta tanto abbiamo preso abbastanza punti VDS questo scontro potrebbe durare anche per ore e ore quindi io direi che anche per questo episodio è tutto come sempre come sempre commentate iscrivetevi un bel mi piace e al prossimo episodio ciao 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 Grazie.